A Ravenna Dante vive sempre, una serata in cui si sono premiati Francesco Sabatini e Luca Barbarossa, quindi l'universo della lingua italiana e quello della musica nel segno del poeta fiorentino. Questo premio a chi lo vorrebbe dedicare? Alla mia famiglia, quelli che non ci sono più, perché ho avuto la fortuna di consigli ed esempi straordinari, quelli che ci sono, mia moglie, i miei figli, i miei nipoti e le famiglie dei miei figli, perché almeno i più vicini cerchino di raccogliere qualcosa se riesco a darglielo. Quindi glielo rappresenterò ad ognuno di loro, guarda che anche tu ho un po' di questo premio, tienilo da conto. In cosa consiste la sua importanza, l'importanza di questo poeta? Stasera ascoltavo i nostri professori francesi, tedesco e inglese, che hanno fatto una bellissima lezione. Però riguardo il rapporto, una delle frasi che più mi ha colpito, perché mi è capitato di tornarci a lavorare recentemente, è quando nel De Bulgari Oloquenze lui dice Ognuno ama la sua terra natia, però per me la mia patria è il mondo, come dei pesci è l'acqua. Ecco, una lezione oggi più folgorante di questa, in questo momento non mi viene in mente che ci possa aver lasciato Dante in eredità.